è Bruno Vespa in quinta elementare cioè Bruno Vespa in classe quinta elementare la notizia l'ho appresa ora da uno dei più importanti web journal dei giornali su web perché in una certa trasmissione televisiva Bruno Vespa avrebbe detto che i pipistrelli i pipistrelli sono degli uccelli e un ragazzo di 13 anni lo ha ripreso e ha detto no Bruno i pipistrelli non sono uccelli i pipistrelli sono mammiferi sì 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 mammiferi diciamo che i pipistrelli sono come dei topolini topolini con le ali che poi non sono neanche ali veri e propri tecnicamente parlando sì sì Bruno Vespa per chi non lo sa è quel giornalista che ha scritto recentemente un libro ponderoso intitolato perché perché l'Italia amò gli italiani perché l'Italia amò Mussolini e io ci ho fatto un video sul libro ultimo libro di Bruno Vespa intitolato perché l'Italia amò Mussolini e io ho detto ma Bruno Vespa l'Italia è una realtà geografica non ha sentimenti non ha sentimenti tu dovevi usare un'altra parola non Italia ma italiani però se usavi la parola italiani facevi un errore sociologico perché non è vero che gli italiani amarono Mussolini perché Mussolini hanno il potere con con l'olio di ricino e manganello capito? allora non hai usato la parola italiani perché non è vero che gli italiani amarono Mussolini hai usato la parola Italia perché l'Italia amò Mussolini ma l'Italia è una realtà geografica una realtà geografica non ha sentimenti beh allora come concludere questo video questo video si conclude che Bruno Vespa non avrebbe superato l'esame di quinta elementare perché è il quinta elementare che si insegna che i pipistrelli non sono uccelli ma sono mammiferi 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 c'hanno le mammelle latte 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 cioè allattano allattano Bruno Vespa Bruno Vespa per cui questo video è intitolato Bruno Vespa in quinta elementare ed ora mi raccomando correte tutti in libreria a comprare la pregiata ultima opera di Bruno Vespa perché l'Italia amò Mussolini ok cari amici a tutti i tanti cari saluti da Stipa e Serpente a tutti i tanti cari saluti a tutti i tanti cari saluti